Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della vendetta sul narcisista. Molte persone mi chiedono come ci si può vendicare di un narcisista, come si possono, diciamo, ci si può liberare dal fatto che un narcisista in qualche modo ti fa soffrire, dal fatto che un narcisista in qualche modo ti rovina la vita, insomma. Quindi abbiamo tutti l'esigenza di le persone che interagiscono con i narcisisti, tra virgolette, di vendicarsi. Ma la vendetta sul narcisista, la vendetta più importante sul narcisista è quella di essere indifferenti. Cioè è quella di non lasciarsi condizionare, perché se il narcisista ha come fine quello di condizionarti, e questo è quanto, se tu non ti lasci condizionare, gli dai una sconfitta. È ovvio che, come dire, se all'inizio, ecco, la cosa che puoi fare, volendo, una volta che hai acquisito consapevolezza, però, che hai a che fare con il narcisista, fai finta di essere condizionato, condizionato, cioè ti dimostri complementare alle sue esigenze, e poi di colpo, tac, lo lasci di brutto, di colpo. Ecco, questo è quello che colpisce più il narcisista, ma da un momento all'altro, dici, senti, non mi interessa più, levati dalle palle, non ne voglio più sapere di te, ciao, e chiudi ogni contatto. Questo è per il narcisista, diciamo, che è un colpo al cuore, no? Perché essere lasciato, quando lui crede di averti condizionato, gli fa cadere tutti i suoi schemi, non riesce più a connettere, non riesce più a capire com'è che, e quindi lo mandi in crisi, lo mandi in crisi di identità, diciamo così, e anche in crisi esistenziale, non sa più quello che vuole, non riesce più a connettere. Quindi l'unica vera vendetta sul narcisista è quella che, quando gli dai l'idea di essere coinvolta, o coinvolto, e poi nel momento in cui lui crede di avere il potere, di colpo, senza una motivazione, senza una giustificazione, lo mandi a stendere, o la mandi a stendere e sparisce. Chiudi di brutto ogni contatto, blocchi dappertutto. Questo gli genera una botta, diciamo così, che lo manda in tilt, e questo poi vedrai la reazione, però sicuramente è la migliore vendetta, è proprio questa, cioè mandi i suoi schemi di colpo tutti in frantumi. E forse, diciamo, la sofferenza che comunque, in qualche modo, di generi riesce forse a fargli comprendere che magari, diciamo, i suoi modi comportamentali non sono i migliori. Il suo modo di interagire con gli altri non è, non è, non va tanto bene, insomma. Quindi, da un certo punto di vista, gli fai un favore perché smuovi un po', un po', diciamo, il suo modo di essere narcisista. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.